Un buon pomeriggio e un buon inizio di settimana dalla redazione di E-Live. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che purtroppo dobbiamo aprire ancora una volta con la cronaca perché sono ben 5 le vittime in poco più di 3 giorni sulle strade bresciane a causa di vari incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto proprio questa mattina, è avvenuto nella frazione di Fontana a Lumezzane a perdere la vita. Purtroppo è stato nuovamente un giovane, un ragazzo di appena 21 anni. Un'altra mattina tanera sulle strade bresciane con segnalazioni di incidenti che arrivano un po' ovunque dalla provincia. Uno di questi purtroppo mortale e ancora una volta a perdere la vita è stato un giovane. Dopo la morte di un quindicenne a Calvagese nella notte fra sabato e domenica, questa mattina attorno alle 8 e 30 un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in via padre Bolognini a Lumezzane nella frazione di Fontana. Le informazioni che arrivano dal luogo della tragedia ancora molto frammentarie riferiscono che con tutta probabilità il giovane avrebbe perso il controllo della sua automobile finendo per scontrarsi contro il muro di un'abitazione dopo l'uscita di strada. Inutile il tempestivo intervento dei sanitari del 118 giunti in via Bolognini con due ambulanze e un'automedica. Il giovane è morto sul colpo. Ora spetterà alla polizia locale di Lumezzane stabilire le dinamiche e cause mentre per la messa in sicurezza del tratto di strada sono stati allertati i vigili del fuoco. Nella sola giornata di venerdì gli incidenti mortali nel Bresciano erano stati tre, due sull'autostrada A4 e uno sulla statale 45 bis Gardesana, teatro anche oggi, di un nuovo incidente senza gravi conseguenze se non sulla viabilità bloccata. In soli tre giorni e mezzo il tragico bilancio delle vittime sulle strade bresciane sale a 5. Apriamo ora la pagina del nostro giornale dedicata al Covid-19 e lo facciamo con la stretta attualità, con i dati sul nostro sito internet livebrescia.tv con il bollettino nazionale della giornata di ieri in cui possiamo appunto anche capire, vedere quelli che sono i dati relativi a Brescia e alla Lombardia. Vediamo che nella nostra regione il tasso di positività torna sopra il 4%, sono 203 i nuovi contagi segnalati nella nostra provincia. Come sappiamo, come ogni lunedì, i dati della domenica non hanno l'infografica consueta di regione Lombardia, quindi leggiamo insieme il nostro pezzo per capire un po' meglio quali sono i dati sul contagio. Sono 30.249 i tamponi processati nell'ultima giornata che hanno portato alla scoperta di 1.287 nuovi contagi da Covid. Ciò significa, come abbiamo visto anche nel nostro titolo, un tasso di positività che si attesta al 4,25%, leggermente superiore rispetto ai giorni precedenti. A livello dei dati per ogni singola provincia, Milano è, come di consueto, al primo posto con 375 nuovi casi, seguita questa volta non da Brescia, bensì da Bergamo con 218 nuovi contagi. Brescia si trova al terzo posto con 203 e al quarto c'è invece Monza con 149. Tutte le altre province lombarde non superano invece i 100 nuovi contagi. Sono 23 i decessi attribuibili al Covid segnalati nelle ultime 24 ore, un dato sicuramente in riduzione ma che potremo valutare con più accuratezza sicuramente con i bollettini dei prossimi giorni, non sicuramente quello di stasera, che come sappiamo non è valutabile come tutti gli altri ma con quelli delle prossime giornate. Salgono invece leggermente i ricoveri nella terapia intensive lombarde. Attualmente i pazienti Covid ricoverati nei reparti di rianimazione della nostra regione sono 542. Quindi per ulteriori aggiornamenti vedremo i bollettini delle prossime ore e più in particolare anche dei prossimi giorni. Ora torniamo a parlare, lo ricorderete, di quello che è stato l'attentato di Namitardo nel centro vaccinale in città di Via Morelli. Ebbene nelle scorse ore i due possibili attentatori sono stati arrestati. Cerchiamo di ricostruire un po' questa vicenda e di sentire anche le reazioni della dottoressa Indelicato che è un po' Deus Ex Machina, un po' la mente e il braccio dei centri vaccinali bresciani oltre che ovviamente dei sindacati. Sarebbero due bresciani di 51 e 52 anni gli autori dell'attentato di Namitardo al centro vaccinale di Via Morelli la mattina del 3 aprile scorso. I Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Brescia hanno arrestato Paolo Pluda, 52 anni di Brescia e Nicola Zanardelli, 51 anni di Monticelli Brusati. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia a cautelare in carcere emessa dal GIV del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica. I due arrestati sono gravemente indiziati dei delitti di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra commesse ai danni del centro vaccinale di Via Morelli a Brescia. Contestualmente all'arresto i militari hanno eseguito perquisizioni nelle province di Brescia e Verona nei confronti di alcune persone che avevano rapporti con gli indagati. L'incendio alimentato dagli ordigni non propagatosi all'interno del padiglione solo per la resistenza ignifuga dell'attenso struttura e per altre cause fortuite era potenzialmente idoneo a causare danni devastanti alla struttura, scrivono i Carabinieri, nella quale erano stoccate diverse centinaia di dosi di vaccino, nonché altro materiale infiammabile, danni che avrebbero potuto riquercuotersi negativamente sulla campagna vaccinale anti-covid-19. A pochi metri dal principio di incendio corrono cavi elettrici che, se fossero stati interessati dalle fiamme, avrebbero interrotto l'alimentazione della catena del freddo, così rendendo inutilizzabili i vaccini. Nel sito colpito vengono infatti somministrate circa mille dosi di vaccino al giorno. Le indagini, scrivono i Carabinieri nella nota diffusa, condotte in tempi brevi, anche mediante il ricorso alle intercettazioni telefoniche e ambientali, si sono subito concentrate sull'analisi dei sistemi di videosorveglianza e rilevazione targhe dei veicoli presenti sul territorio del comune di Brescia, consentendo di individuare quello utilizzato dagli attentatori per raggiungere l'area e indirizzare quindi le investigazioni sulla figura di Paolo Pluda, il quale, sebbene incensurato e mai emerso in indagini di criminalità aversiva, evidenziava una convinta adesione alle tesi negazioniste e novaxe, con una marcata ostilità nei confronti delle istituzioni in relazione alla gestione della crisi sanitaria in atto. Le indagini, prosegue la nota, consentivano inoltre di individuare anche Nicola Zanardelli, il soggetto appartenente alla cerchia relazionale del Pluda e risultato anche egli convintamente orientato dal punto di vista ideologico verso le interpretazioni più violente e oltreanziste delle tematiche populiste. Novax e anti-istituzionali, manifestate in particolare attraverso il web e i social networks. La svolta delle indagini avveniva dall'isolamento di alcune immagini che fornivano la prova della preparazione degli ordigni da parte degli indagati. Dalle risultanze investigative, concludono i carabinieri, è emersa la chiara volontà dei presunti attentatori di bloccare e sabotare la campagna vaccinale in corso, intimidendo la popolazione e alimentando il clima di incertezza nel particolare momento storico, nonché di reiterare nel breve termine ulteriori azioni violente e di danneggiamento. È significativo infatti la circostanza che il Pluda, la mattina poco prima dell'attacco, abbia postato sul proprio profilo Facebook la frase «Se vogliamo distruggere il nemico, dobbiamo usare la stessa arma, la paura». «E la loro paura è la nostra unione, non ci sono altre soluzioni». Le forze dell'ordine e l'autorità giudiziana hanno lavorato tutte queste settimane. Chiaramente fino a quando non verranno condannati non possiamo esprimere alcun parere. Certo, è stato un gesto ignobile, un oltraggio a chi lavora qui, operatori della SST e volontari, un oltraggio a tutti i cittadini. «Notizia eccezionale, dare alla giustizia chi ha fatto un atto ignobile, vile, in un momento drammatico sanitario, dove lavoratrici e lavoratori hanno messo la loro vita per salvare gli altri, è una notizia eccezionale che cogliamo con favore. Quindi bene le indagini e bene l'arresto». Di fronte a un gesto inqualificabile abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia e nelle forze dell'ordine, quindi le autorità competenti. Quindi questo dimostra ancora come lo Stato italiano ha delle forze e delle eccellenze per quanto riguarda l'antiterrorismo. Io mi aggiungo a quello che diceva Mario e Alberto adesso, chiaramente è importante intanto la tempestività e due, evidentemente capire esattamente, questo sarà frutto diciamo dei prossimi giorni, evidentemente capire esattamente qual è la radice di questo gesto appunto per evitare che ci sia in futuro altri gesti che hanno questa gravità. Quindi è importante insomma questa notizia. E per un aggiornamento in merito a questa vicenda vi porto anche sul nostro sito internet livebrecia.tv molto rapidamente per farvi vedere una notizia pubblicata poche ore fa. Infatti per l'attentato di Via Morelli domani si saranno gli interrogatori dei due Novax arrestati. Quindi verranno interrogati nella giornata di domani nel carcere di Brescia. Paolo Pludo e Nicola Zanardelli, i due bresciani appunto come abbiamo sentito ampiamente, accusati di essere gli autori dell'attentato di Namitardo al centro vaccinale di Via Morelli lo scorso 3 aprile. Sono accusati di delitti in atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Quindi una vicenda che seguiremo sicuramente anche nei prossimi giorni. Dal punto di vista invece di quelle che sono i provvedimenti, insomma le misure fatte dal comune, comunque dai vari comuni, noi stiamo concentrando in questo caso sul comune di Brescia per dare una mano in questi periodi di difficoltà c'è anche quello delle ZTL, dei permessi ZTL dati gratuitamente in maniera temporanea agli ristoratori, ai baristi, ai titolari o gestori di pub, gelaterie o pasticcerie, proprio per effettuare il delivery. Questa misura è stata rinnovata nelle scorse ore, nonostante appunto le riaperture che abbiamo visto partite dalla settimana scorsa, rinnovata fino al prossimo 30 di giugno. Nonostante le riaperture, per il settore della ristorazione non è ancora facile lavorare nei propri locali e quindi un'ampia fetta si basa ancora sulle consegne a domicilio. Per questo motivo il comune di Brescia ha deciso di prorogare il provvedimento con cui consentiva il rilascio di un permesso temporaneo gratuito per accedere alle ZTL del centro a pub, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie con il fine di fare proprio le consegne. La misura è entrata in vigore all'inizio del mese di novembre del 2020 e ora è stata ulteriormente rinnovata almeno fino al prossimo 30 giugno. Chi non lo avesse ancora richiesto lo può fare con una richiesta formale all'indirizzo istanze ZTL e disabili chiocciolacomune.brescia.it mentre chi lo ha già ottenuto non dovrà preoccuparsi di alcun tipo di rinnovo poiché rimarrà valido fino al termine dell'ordinanza. Sempre allo stesso indirizzo e-mail è possibile richiedere permessi temporanei della durata di tre mesi per tutti quei privati cittadini, associazioni o volontari che prestino assistenza a residenti o domiciliati nelle ZTL per esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'emergenza Covid. Un'altra delle misure è venuta incontro a quelli che sono gli esercenti di ristorazione e non soltanto è quella dell'ampliamento gratuito dei plateatici per il 50%. Una misura che sicuramente ha avuto nuova vita la scorsa settimana con, lo sappiamo, la riapertura solo all'esterno. Ebbene, sono state addirittura 46 le domande giunte in loggia negli ultimi giorni. 13 non sono state approvate o per motivi di sicurezza oppure perché chi le ha richiesto aveva già ottenuto l'ampliamento del 50% e quindi, come sentiremo proprio dalle parole dell'assessore al commercio Walter Mucchetti, non è possibile chiedere ulteriori ampliamenti. Parliamo di nuovi plateatici o di ampliamenti di plateatici. Sapete che la normativa concede anche, diciamo, delle deroghe. Non è più necessario presentare il progetto con l'architetto passato dalla sopraintendenza, ma c'è una certa disponibilità evidentemente a dare una mano agli operatori che sono rimasti chiusi per tanti mesi. Sono arrivate 46 domande, di cui 27 con esito positivo, 6 sono in istruttoria e 13 con parere negativo. Segnalo che quando arrivano queste richieste vengono raccolti 5 pareri, mobilità commerciale, monumentale e ciotti per quanto riguarda anche lui gli aspetti di occupazione dei marciapiedi e quindi 5 pareri e il verde. In alcuni casi, evidentemente, chiediamo il parere anche dei verde quando serve e si è creata una prassi più facile per quanto riguarda il rilascio e quindi l'architetto Roggero in 5-6 giorni lavorativi riesce a dare una risposta. Ripeto, queste 46 richieste sono arrivate tutte negli ultimi giorni quando è partita l'informativa della riapertura. I pareri negativi sono di due o tre generi. inizialmente è l'aspetto di sicurezza, l'altro aspetto è che molti chiedono ma hanno già ottenuto sia il plateatico, poi con la disponibilità da parte dell'amministrazione di concedere fino al 50% di occupazione aggiuntiva a titolo gratuito, alcuni operatori hanno già chiesto il 50%, adesso chiedono ulteriormente un altro 50% del 50%. In questo caso non è possibile. Parliamo ora dell'industria, lo facciamo grazie a uno studio di Confindustria Brescia che vede anche positivo per quanto riguarda il futuro e comunque anche il presente dell'attività bresciana. Infatti proprio a seguito di questo studio si è accertato che la variazione di produzione del primo trimestre del 2021, quindi questi primi tre mesi del nuovo anno sono nuovamente in positivo ed è un segno più che non si vedeva da quasi due anni. Nel primo trimestre del 2021 la variazione della produzione delle imprese manufatturiere bresciane rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente tendenziale è risultata pari al più 5,2%. Si tratta del primo valore positivo dal secondo trimestre del 2019. A evidenziarlo è un'indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia sui dati relativi al primo trimestre di questo 2021. Il risultato complessivo sarebbe determinato dal forte recupero realizzato nel mese di marzo, successivo alla fase di consolidamento rilevata fra gennaio e febbraio. L'industria bresciana manifesta nel complesso una certa resilienza, guidata soprattutto dalla domanda interna, ma anche da quella estera. Nel dettaglio la produzione industriale rivela un aumento sul trimestre precedente di 4,8%. Le previsioni a breve termine sono positive. Le aziende che stimano un miglioramento della situazione nei prossimi tre mesi sono il 44%. Quelle che prevedono di mantenere i livelli attuali sono sempre il 44%, mentre solo il 12% stima un calo dell'attività. Le aspettative sono condizionate dal protrarsi delle misure anti-Covid-19 nel mese di aprile, in seguito alla terza ondata della pandemia. Nelle scorse ore è stato in visita nel Bresciano anche il neoassessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi. Durante il suo tour in alcune realtà industriali bresciane, ha parlato anche della formazione di un nuovo tavolo di coordinamento centrale che aiuti ad internazionalizzare le aziende e aiuti anche a catalizzare, a calamitare quelli che sono investimenti dall'estero proprio in Lombardia. Vedo voglia, entusiasmo, ingegno e grande qualità nelle produzioni che fanno. Devo dire che questi giri sono una crescita culturale immensa per quanto mi riguarda e anche la soddisfazione di avere a disposizione un tessuto così positivo. Se ci alleiamo con loro il rilancio economico della nostra regione sarà molto più veloce. L'idea è quella di creare un coordinamento autorizzativo in Regione Lombardia affinché ci possa essere la possibilità di un'unica interlocuzione con papabili investitori in Regione Lombardia e che questa unica interlocuzione consenta ai papabili investitori il rispetto del loro piano economico dal punto di vista della tempistica. È un criterio di premialità fondamentale per noi affinché gli investitori scelgano ancora di più la Regione Lombardia. Prima di passare allo sport, con gli amici di Trevi Meteo, diamo uno sguardo anche a quelle che saranno le condizioni che ci attendono nei prossimi giorni, sempre purtroppo all'insegna della variabilità. La nuova settimana vedrà le correnti sempre disposte dai quadrati occidentali alle medio-alte quote e questo vuol dire che insomma il tempo al nord potrebbe essere ancora a tratti variabili però sicuramente ci sarà un significativo miglioramento con la nuova settimana al settentrione dopo le piogge, i temporali diffusi di questo finire di settimana. Infatti l'alta pressione cercherà dalla Spagna, dal Mediterraneo occidentale di raggiungere maggiormente tutta Italia con una maggiore stabilità e bel tempo al centro-sud e temperature primaverili, piena primavera durante le ore centali del giorno. Il nord, dicevo, situazione che andrà migliorando con schiarite anche ampie ma è un contesto a tratti ancora un po' di variabilità perché le zone di bassa pressione saranno sempre oltre alpe, vicine tra isole britanniche, paesi bassi, Scandinavia e potrebbero quindi influenzare un po' il tempo con della variabilità e qualche piovasco soprattutto sull'area alpina e l'estremo nord-est. Seguite quindi tutti gli aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web. Come promesso ora lo sport parliamo di pallavolo, parliamo di Atlantide perché purtroppo nella serata di ieri si è giocata gara 3 per quanto riguarda la semifinale dei play-off promozione ed è arrivata dopo quattro vittorie consecutive, è arrivata una sconfitta nella trasferta di Siena quindi serie che va sul 2-1 però non è perso nulla perché nella giornata di mercoledì, nella serata di mercoledì alle 18 c'è già gara 4 e quindi c'è un altro match point possibile per agguantare una finale storica. Sentiamo le parole del post-gara, un 3-0, dobbiamo dirlo anche abbastanza pesante dell'allenatore dei Tucani, Roberto Zambonardi. C'è da dare merito a Siena che ha fatto una grandissima partita ha fatto una grandissima prestazione in tutti i fondamentali noi non eravamo al meglio delle condizioni fisiche ma non deve essere una scusante ci è mancata anche un po' di quella cattiveria che abbiamo avuto in tante altre occasioni ma ci può anche stare perché appunto come dicevi tu dopo quattro partite di alto livello un calo fisico e mentale ci può stare. L'importante è riprendere il prima possibile le energie mentali e fisiche perché mercoledì abbiamo una gara importante, abbiamo gara 4. Siena, come abbiamo sempre detto, rimane favorita perché anche oggi ha dimostrato il valore della squadra che è, è una squadra fatta per fare il salto in Superliga noi sempre con tranquillità giochiamo la nostra partita sapendo che e confermando a tutti quanti che i ragazzi si impegnano sempre anche quando magari sembrano un po' più scialbi, un po' più leggerini rispetto ad altre occasioni no, sono un gruppo che lavora con costanza, con forza, con qualità, con determinazione ci può stare la giornata storta ma c'è anche il valore della del Salio per cui onora Siena, rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci per le prossime partite. Ovviamente in bocca al lupo ai Tucani per la sfida di mercoledì nel pomeriggio di sabato invece è cominciata la 10 giorni di fuoco del Brescia Calcio dopo lo stop imposto dalla Lega per il Covid è cominciata questa nevralgica parte finale di stagione è cominciata nel modo migliore, possiamo dire, una vittoria per 3-1 contro la Spal non c'è però tempo di festeggiare troppo perché domani si torna nuovamente in campo sempre alle 14, un avversario tra l'altro che è anche un competitor diretto del Brescia per la corsa disperata ai play-off, stiamo parlando del Vicenza prima di pensare però al futuro diamo uno sguardo al passato con Fabio Pettenò una sintesi, un commento di quella che è stata la sfida con la Spal Obiettivo centrato per il Brescia che batte 3-1 allo stadio Rigamonti la Spal, vittoria che vale la salvezza diretta e ora il Brescia sogna tre giornate dal termine, sono 47 punti in classifica punti da recuperare 2 sul Chievo Verona e 3 proprio sulla Spal gara decisa nella prima parte con il gol di Bjarnason nel secondo tempo il sigilio di Aie la Spal tentava di entrare di nuovo in partita con la prodezza di strefezza ma poi chiudere la sfida era Iagello con un tocco nell'angolino dopo essere entrato nel secondo tempo prestazione davvero importantissima e di sostanza da parte della squadra di Pepe Clotet che adesso è pronta di nuovo a scendere in campo martedì pomeriggio alle ore 14 perché questa decisora Lega si va al menti di Vicenza per cercare altri punti per conseguire il sogno e di inseguire soprattutto il sogno playoff ovviamente torna anche l'appuntamento con Diretta Stadio anche in un pomeriggio di un giorno feriale quindi domani alle 13.30 Diretta Stadio per seguire Vicenza Brescia io invece prima di salutarvi vi ricordo come sempre che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito internet livebrescia.tv dove oltre alle notizie trovate anche la possibilità 24 ore su 24 di seguire lo streaming di E-Live in questo piccolo box e anche i banner dedicati per iscrivervi ad esempio ai nostri canali Telegram e Live Brescia News e Live Brescia Sport e rimanere così aggiornati sempre in tempo reale ricevendo tutte le notizie sul vostro telefono cellulare in conclusione io vi ringrazio per averci seguito e scelto anche quest'oggi vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi aspetto qui questa sera alle 19 per un nuovo aggiornamento con l'informazione a presto puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast e vi aspetto Grazie a tutti.